Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Poche ore fa ho letto della morte di Shaw Road e ne ho deciso di fare questo video. Non è assolutamente un video a chiappa like, a chiappa commenti, a chiappa follower, no. Voglio parlare di questo perché è un tema che mi tocca davvero tanto e soprattutto era un atleta che mi piaceva davvero tanto e mi dispiace. Però voglio anche sensibilizzarvi su un determinato tema. Allora, qualche mese fa è morto anche George Peterson e non ho fatto nessun video a riguardo anche perché non voglio, fra virgolette, lucrare sulla morte di qualcuno. Anni fa morì Dallas Mercarver, anni ancora prima morì Rich Piano, comunque ne sono morti un sacco, ok? Anche meno famosi. Ho compreso una donna, adesso non ricordo il nome. Le cause sono quasi sempre solite. Problemi al cuore, arresto cardiaco dovuti all'utilizzo di diuretici o ad un cuore ipertrofico. Anche perché lo sapete ragazzi, con i prodotti a quei dosaggi il cuore lavora come una macchinetta, è sempre a pompare sangue e appunto arriva ad un'ipertrofia davvero assurda. Poi dopo vi leggerò dei dati. Quindi voglio dirvi questo. Allora, l'utilizzo di anabolizzanti è presente nel mondo del bodybuilding. Sì, c'è. Da le gare, fra virgolette, amatoriali fino all'Olimpia, l'utilizzo c'è. E purtroppo c'è in tantissimi altri sport, in quasi tutti. Se vuoi eccellere in uno sport, l'utilizzo è presente. Ragazzi, questi sono dati di fatto. Se siete i classici ragazzini o le persone che vi piace solo scrivere doping sotto i commenti della foto di un ragazzo con un po' di muscoli, chiudete il video. Io qui adesso voglio persone che ragionano e che sono intelligenti, ok? Quindi ragazzi, mettete in conto che l'utilizzo di steroidi adesso è presente. Giusto o sbagliato che sia, ok? Certamente è sbagliato, non bisogna utilizzare. È sbagliatissimo, fa male e basta. Però ragazzi è presente. E quindi come dato di fatto che è presente, vi voglio dire questo. Un conto è l'utilizzo, ok? Che è sbagliato. E un conto è l'abuso eccessivo. Perché ragazzi, per arrivare già all'Olimpia bisogna abusare. Ma per arrivare a certi risultati estremi, come stiamo arrivando adesso, ragazzi, l'abuso viene superato. Ed è lì allora che realmente può si incorrere a delle problematiche del genere, ok? Ora, Sean Roden era dal 2019 e non partecipa all'Olimpia, anche perché venne squalificato per accusa di stupro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque il suo utilizzo l'ha fatto. E ultimamente girava a foto dove era di nuovo in forma e tutto quanto. Data l'età e data sicuramente il suo abuso per tanti anni, beh, è successo quello che è successo. Stessa cosa George Peterson. A pochi giorni dalla gara è stato trovato morto. Certamente arresto cardiaco dovuto, secondo me, all'utilizzo di diuretici. Anche perché, ragazzi, l'ematocrito sale per via dei prodotti. Si utilizzano diuretici, non si beve, eccetera, il sangue diventa marmellata e va a finire che, appunto, ci rimettete le penne, ok? Il motivo principale è questo, ragazzi. Poi, va bene, non voglio parlare di Rich Piana, che lui, oltre all'utilizzo di prodotti, lui era una cavia da laboratorio, secondo me. Lui assumeva droghe di tutti i tipi e quindi lasciamolo fare. Vi volevo parlare di una cosa, di Dallas McCarver. Dallas McCarver, dopo che gli hanno fatto l'autopsia, quindi vi parlo di lui perché è una cosa passata e quindi già ci sono tutti i referti, aveva un cuore di 833 grammi contro i 250 massimo 300 normali. Cioè, ragazzi, aveva il cuore, non il doppio, più del doppio grosso rispetto a una persona normale. L'ipertrofia del mio cardio è la classica causa di morte per quanto riguarda l'utilizzo di storie da napolizzanti. Ok, ragazzi, e io vi voglio fare questo video per sensibilizzare soprattutto gli atleti, perché non tanti ragazzini a non usare, quello, ragazzi, è scontato, non dovete iniziare proprio. Ma soprattutto le persone che già utilizzano per fare certe gare, che purtroppo è così, perché per gareggiare sei quasi costretto a farlo. Ragazzi, pensateci due volte prima di farvi dosi da cavalli ed assumere diuretici senza cognizione di causa. Dallas McCarver ci sono delle teorie che usasse grammate intere di testosterone, cioè si parla di 10 grammi. Ora, non so quanto possa essere vero, ma è realmente così. E ragazzi, adesso io non voglio fare nomi, va bene? Non voglio fare nomi, però nell'ambiente del bodybuilding ci sono dentro. E conosco atleti italiani che fanno delle cose davvero assurde. Ok, magari alcuni gareggiano ad altri livelli, vincano la ProCard, ma ragazzi, ci sono dei ragazzi che fanno Main Physique, che fanno Classic Physique o che ancora non hanno vinto la ProCard, che si fanno 20 unità di insulina al giorno, 20 unità di GH, 3, 4, 5 grammi di prodotti. Quindi, il problema principale, sapete qual è? Che se avete un'ottima genetica, sia alla risposta dei prodotti che per la crescita, non vi servano 5-6 grammi per arrivare a raggiungere un determinato risultato, ma vi basta il giusto e indispensabile e appunto crescete. Cosa che, ad esempio, è successa magari a... come a Dexter Jackson, ok? Lui aveva una genetica pazzesca, infatti è gareggiata all'Olimpia per tantissimi anni, senza mai avere grandi problemi. E questo perché? Perché lui aveva un'ottima genetica, non ha mai voluto esagerare per raggiungere determinati risultati ancora più estremi, si è mantenuto utilizzando in uno stato di salute e è riuscito ad arrivare fino a fine carriera, eccetera. Stessa cosa c'è Cutler, genetica pazzesca, ottima risposta ai prodotti, ha usato tanto, ha raggiunto determinati risultati, ha capito che era il momento di fermarsi, stop, questo devono fare i culturisti. E purtroppo adesso, quando si nota che la genetica non arriva, che il corpo non arriva a certi risultati, cosa fanno queste persone? Fanno di più, fanno di più quei prodotti, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio portare un esempio, Andreas Munzer, mi sono preso degli appunti, Andreas Munzer, vi metterò comunque le foto, era un ex culturista, ora è morto da tanto tempo, il suo cuore pesava 636 grammi, quindi il doppio rispetto a un cuore normale, e lui utilizzava talmente tanti prodotti, ragazzi, che quello che è trovato in farmacia non è nulla, cioè un'intera farmacia. Adesso vi metto qui la listina di tutti i prodotti che utilizzava nell'arco di circa 10 settimane. E ragazzi, i dosaggi sono al giorno. Effedrina, aspirina, clambuterolo, quindi tutti i stimolatori del cuore, mezzo grammi di testosterone, primobolan, alotestine, l'alotestine, ragazzi, per chi non lo sapesse, è uno degli steroidi peggiori che ci sia. Aggressività, ematocreto alle stelle, vi manda a quel paese l'asse in una maniera impressionante. Poi, ragazzi, 20 unità di GH, 20 unità di insulina, le settimane dopo 24 unità di GH, cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che 24 unità di GH al giorno vi vengano degli organi così? E ragazzi, questo è il chiaro esempio di culturista che vuole raggiungere risultati che sa che non può raggiungere e allora fa di tutto per raggiungere e alla fine ci rimette le penne. Quindi, la sua morte penso che sia un'altra prova di questo che sto dicendo. Ragazzi, non utilizzate, ok? Non utilizzate, ma se siete già dentro questo mondo dovete riconoscere i vostri limiti genetici e fermarvi lì. Non andate oltre perché alla fine ci rimettete solo le penne, ok? Non ha senso morire per vincere una coppa che non vi porterà niente, ragazzi, ok? Anche se arrivate all'Olimpia a qualificarvi, non dovete rimanerci, ok? Il video l'ho fatto per questo. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un like, lasciate un commento e noi ci vediamo alla prossima. E speriamo che queste cose non risuccedano più.